Bene, allora cominciamo dalla radio. Eccoci qua, perché sono proprio due catene di lavoro separate. Questa è l'interfaccia per fare la diretta la domenica mattina dalle 7 alle 10. Da questa parte c'è la scaletta della radio, il mio riferimento visivo adesso non c'è scritto niente ovviamente perché non siamo in onda. Mentre in questi due monitor nella parte alta, non so se si vede, mi avvicino, ecco questa è l'inquadratura della domenica mattina e qui sotto c'è il riferimento video. Io adesso posso vedere il ritorno dalla radio ovviamente non siamo collegati però si vede la diretta sia tv, questa è l'inquadratura della tv e ovviamente in cuffia sento la radio. Questa è la webcam in HD che uso per la diretta la domenica mattina e dietro lo sto indicando quella è la luce che illumina appunto l'inquadratura. Il microfono che sotto c'è uno dei monitor che però uso solo per il riferimento di montaggio ma ne parliamo dopo. Questo è il microfono che uso per la diretta della domenica mattina che è un po' uno standard tutte le radio, insomma per tutte le dirette radiofoniche. Poi c'è la parte invece che riguarda le registrazioni, gli audiolibri, i podcast, note a margine, quello di cui abbiamo parlato prima. E questa è proprio l'interfaccia di lavoro con un'altra catena di registrazione che uso per quel tipo di produzione. Qui vedete aperta la schermata di iMove che è il sistema che uso, ecco si vedono adesso che scorrono sullo schermo le varie immagini, questo è il montaggio del trailer. Nella parte alta qui sopra ci sono le tracce video che abbiamo montato, mentre quei quadratini verdi sono le tracce audio, la colonna sonora e le voci. Ecco se adesso io sposto il cursore sulle tracce video e audio vedete che si muovono le immagini. Quelle che vi dicevo prima, le immagini del calcio, delle due grandi vittorie del 34 e del 38 dell'Italia ai mondiali. Per registrare su questa interfaccia quindi audiolibri e podcast uso invece un altro microfono che è questo. Tanto si vede questo schermo nero che si chiama antipop che serve per attenuare le pi, per non far picchiare troppo le pi e le labiali in genere se vengono pronunciate in modo troppo forte altrimenti non va bene, rovina la registrazione. Alzando l'antipop si vede l'altro microfono che è il fratellino di quello che avete visto prima per la diretta radio, nel senso che è sempre la stessa ditta che li produce, ormai da sempre, da quando esiste la radio praticamente, ed è un microfono dedicato invece alle registrazioni per documentari, audiolibri, doppiaggio, per quel che si vuole insomma. C'è da dire una cosa particolare che per registrare audiolibri, per fare doppiaggio, per fare podcast si tiene una distanza maggiore dal microfono perché è molto più sensibile, tipo un paio di spanne e lo si regola anche ad una sensibilità più alta rispetto al microfono invece che si usa per la diretta radio al quale si sta un po' più vicini perché comunque poi in radio c'è un apparecchio che si chiama compressore che alza comunque il volume, il livello, l'intensità che arriva nel mixer della radio e poi livella tutti i suoni, il suono della voce con quello delle basi, delle sigle, della musica eccetera. È tutto. Ah, i pannelli dietro, non ho parlato di... ecco, quelli sono i pannelli anecoici che tolgono l'eco dalla stanza e sono sparsi un po' dappertutto e ci sono anche qui dietro questi grigi che vedevate prima che stanno alle mie spalle e ci sono anche identici come quelli che vedete qui dietro al microfono sul soffitto della stanzetta. È tutto. Tutto qui. Ok. Ascolta, questo è interessantissimo. Tanto visto che li metto su YouTube vedrai che questo verrà guardato molto anche singolarmente perché poi gli faccio dei titoli e dei tag adeguati. Vedrai che questo... C'è la scheda audio, non so se vuoi che ti dica anche quello che è collegata. No, no, no. La scheda audio entra nel computer, eh. No, no, va bene così. È questa qua, praticamente, è questa roba qua. È questa. Beh, dai, dillo, sì. Attacca dai e poi c'è la scheda audio. Sì, sì. E poi c'è la scheda audio che è questa. È questa. Nella quale entrano i due microfoni. Un consiglio per chi comincia a registrare, per i ragazzi che si avvicinano a questo mondo e adesso si fa sempre di più da casa. Non fate come il sottoscritto che ha speso un sacco di soldi all'inizio per comprare compressori, amplificatori, microfonici. Tutti gli studi e tutti i tecnici del suono mi dicono metti i microfoni direttamente nella scheda audio e la scheda audio che va direttamente nel computer. In mezzo non ci mettere nulla perché ti rovinano solo la registrazione. e quindi uno risparmia anche perché evita di prendersi apparecchiature in più che poi alla fine non servono.